VEDO TANTI TANTI AMICI AL DILÀ DELO SCHERMO Anche se in teatro in questo momento non c'è nessuno, stiamo aspettando... Chi stiamo aspettando? Chi? Il pubblico Dici che vengono? Certo che vengono, gli amici del casino di Son Son vengono sempre Viglia Sì sì Sicuro? Sicuro sicuro sicuro, quindi vi aspettiamo mi raccomando, vi aspettiamo sempre qui, venite numerosi Pubblicità No, non è pubblicità, è un consiglio che diamo agli amici che ci saranno seguiti in questo momento Tu sei pronto per fare lo spettacolo stasera? No Sì Perfetto, lui è pronto, io sono pronto Non è vero Verissimo E vi aspettiamo mi raccomando, perché vi aspettiamo? Non lo so Vi aspettiamo, perché qui a Belia anche l'impossibile diventa possibile Sì 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 Sì